Andiamo a prendere la cucciola di stasera Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Questa volta un video particolare, qualcosina diverso dal solito Il tema è sempre Omegle, ma vi porto con me e vi spiego un po' come si crea l'atmosfera, la scena Stasera con me ci sarà una ragazza, una mia amica, che mi farà compagnia in questa serata di Omegle Quindi avrete modo di vedere un backstage di come realmente faccio le mie clip, ecco In modo da farvi capire che non è al primo colpo esce la clip bella Bisogna cercare, ricercare, creare un pochettino l'atmosfera giusta Le giuste battute, le giuste parole per creare quel prank Allora, mi ha scritto la ragazza, vado a prenderla e arrivo Lei non ha mai visto questa stanza, quindi sarà anche una reaction carina Scrivete qui sotto nei commenti se questa piccola serie vi potrebbe piacere Questo è lo speciale dei 100.000 iscritti su YouTube, spero che lo apprezzate, spero vi piaccia Fatemi sapere se ne volete degli altri Vado a prendere la ragazza e arrivo Let's go! Sei pronta? Queste sono le cose che dico sempre a tutte le ragazze quando vengono Non ti devi prendere male con gli insulti Allora sei bella, perfetta, tutte le ragazze Però avrai tanta possibilità che le persone ti prendano per il culo Ti rinvidia, eh? Cioè chi diceva, non te è bella questa Basta che tu non te la prendi a male No Ti faranno i complimenti, che ci ameranno come tanti altri che ci odieranno Io voglio creare una cosa carina Nel senso che voglio creare un mood di prank Che tu sei un qualcosa per me Quindi magari se tu parti da sola qui Magari che ne so, becchio una ragazza Che è interessata a me E tu dici no, Mariano è mio Da geloso, ok? Magari Sono bravi te Ma sei brava? È certo! Ma intendi a fare i video? Ma no, faccia la brava in generale Ma sei brava Quindi lui si fida Piccole regole Sì, superiore Ti conosco però Ma sono così che ti vede? Eh, un po' sì Quindi non sono tutti quelli carini No Quello che vedi Quello che vedi Infatti io l'ho detto Non è sempre così purtroppo Adesso sinistra Sì, sinistra Perché c'è la piercita Secondo me ci sarà da ridere Allora tanti diranno Ma ma quale la stanza di uno prank Chi sei tu? Che roba complicata è? Beh, insomma È complicatissimo Cos'è c'è questa roba? Ma le basi L'audio La videocamera Ti piace? Sì Fa piacere Te lo aspettavi? No Nien'chio Eh ma è così È bisogno Nasce così È rinnovare Sì, fare delle cose strane Vedete? Metti di qui Che strano Perché io sono abitata le foto I video un po' meno Infatti quando mi guardo Eh ma guarda che il video è più bello però Sì Perché ti muovi Cioè È vero È vero È vero È vero Di dire ma questa qua chi è? Tu dopo inizi Sì perché ecco tipo con Micaela Pensavo fosse la tua sorella Brava Brava Hai capito? Che robe Guardano Guardano come Si sta benissimo qua Cioè tipo un po' grande fratello anche Sì beh I monitor ci sono Dopo Io lo farei tutte le sere Più che altro è trovare sempre le ospiti Le persone Che fatica? È un pochettino non è facilissimo Perché ognuno ha i suoi impegni Poi io giusto di sera Noi iniziamo Ciao Ciao Buonasera Buonasera Eh? Eh? No 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 Bro Non me l'aspettavo L'hai fregata eh? Poi che l'ho fregata Ma io sempre 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 fregare Bravo Bravissimo Andrà in un video Complimenti Cosa? Non ho capito Vale comunque L'ho inventato io Mi spiace Mi spiace Ho capito Ho capito Va benissimo Va benissimo Buonasera Se ne v'è Eh? No No Sembra fregare Bro Do you think Hopla 2 Cosa? Non ho capito Ampaya Cos'è che ha detto? Non l'hai visto quel trend Ampaya Io bro Ma tu per caso Dove fai Hopla ieri? Ampaya 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 No si Ah lui ha detto così Ti ha fregato a te? No ti ha fregato a te Ah Perché tu fai Eh E lui fa Ampaya Scusa puoi abbassare la musica? Grazie No Volevo chiederti una cosa Posso? Posso? Devo Cosa diresti al primo appuntamento per conquistarmi? Che c***o? Non è vero Porca troppo Bro tu hai vinto Posso fare una foto fra? Bro tu vai direttamente in un video Però non si dice così a una donna Esatto Come fai? Ma che c***o so? Ti ho penalito su Michael poi scusa Cioè ma vede tutto A un certo punto Vabbè era per conquistarla Per capire cosa Invece stai fregato Non ci sono più Vabbè fra magari Scegli insieme Che ne sai? Vabbè Stato Grazie mille Prego prego Bello bro ci vediamo Magari settimana prossima Vediamo poi quando lo pubblicherò Va bene? Vabbè Ciao Un abbraccio Ciao ciao Cosa diresti al primo appuntamento Per conquistarmi? Che c***o ne so Non è vero Però non si dice così a una donna Esatto Come fai? Ma che c***o so? Ti ho penalito su Michael poi Ciao L'ho capito La strima Ciao Oh mamma Ma male male Prova male Ciao I come on Faccio di riparazione Riprovo 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 Ciao E niente Sono quasi Ma io sono tutti a memoria Ho vecchito il dito veloce Non ci credo Non ci credo Aspè aspè No 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 Perché Ti prego No 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 Oddio Sei davvero tu Ti supplico Dimmi Che sei tu Ti supplico Ti supplico Mariano Non ti sento Amore Piccolina Oddio No vabbè Come sono io Sono io Ma stai piangendo Sì Che carino Amore Ciao 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 Come stai Bene 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 Grazie Ciao Di Milano Qua Fico Milano Tu invece Ma tu sei molto più bella Di Milano Subito Tu sei molto 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 Meglio Di Milano No Su Senta Jacopo Saluta Mi si fai a parlare E parlaci E Mariano Prego Grazie Amore Che mi hai riconosciuto Gentilissima Posso andare a chiamare Il mio fratello E' innamorato Perso di te Va bene Vabbè Chiamolo Vado Non ti preoccupa Guarda Mariano L'ho svegliato Amore mio Che bello Che sei appena sveglio Ciao Come conquistereste Mariano E io lo conquisto Già guardando Mariano I like Alle storie Negli amici stretti Non me li metti più Perché E' la sua fidanzata Vabbè Allora Hai visto E' fedele Esatto Eh però Le le messi Qualcuno Cosa Vecchie Ma come ti chiami? Anna Disa Mi segui Vediamo subito Allora dopo ti tolgo Faccio solo un pollo No questa clip Non vedo Non ho di metterla Te lo giuro Sono seria Eh io non riesco Vabbè comunque Eh ho già capito Grazie Ecco Stai andando benissimo Stai andando benissimo No però è vero Sembra così facile Tutto divertente Invece è Perché puoi beccare Un po' di tutto Ma soprattutto se becchi Quella persona Che magari Non ha voglia di ridere Non ha voglia di fare niente E' difficile Instaurare qualcosa Com'è Fatemi sapere con un commento Qui sotto Se vi è piaciuto E ne volete altri Con altre ragazze Iscrivetevi al canale Vi lasciamo un bacio E una buona serata Ciao 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 Iscriviti al canale